No, 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 io questa cosa la voglio fatta adesso, seduta stante, subito. È inutile che mi guardi così, è inutile. Forse non ti ricordi per chi lavora mio padre. Ah, adesso te lo ricordi per chi lavora. Allora vedi di starti zitto quando parli con me. Io questa cosa la voglio fatta subito, non accetto discussioni. Ed è tutto per oggi. Salve, salve, salve a tutti e bentornati all'angolo della risata. Grazie, siete un pubblico magnifico, calorosissimo. Grazie per il benvenuto. Iniziamo subito con la prima barzellata che so che siete ansiosissimi di sentire. Un uovo dice a un altro uovo. Quante foto che stai scattando? E poi dove ne mettiamo tutte queste foto? E l'altro risponde Beh, ovviamente nell'album. No? Grazie, grazie, è bellissima. Oh no, esclama il medico accogliendo il paziente nello studio. La crema che ieri le ho prescritto le ha fatto diventare il naso tutto verde. Che cosa devo fare, dottore? Si cambia la cravatta, quella rossa resta malissimo. Grazie, grazie, grazie. E passiamo all'ultima barzelletta della serata. Due amici sono in auto. Quello che guida dice all'altro. Controllo un po' se la freccia funziona. Il guidatore tira giù il finestrino e guarda con attenzione. Ora sì, ora no. Ora sì, ora no. Grazie a tutti per avermi seguito anche in questo nuovissimo episodio. Noi ci vediamo a una nuova serata dell'angolo della risata. E se volete partecipare ed essere tra il pubblico, basta che mi scriviate un commento qua sotto e io provvederò a sistemarvi a dovere. Grazie a tutti per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.